Ben trovati, sono il dottor Michele Labbianca, coordinatore della Task Force Coronavirus della Regione Basilicata. I dati riferiti al 16 dicembre, già diffusi dal bollettino della Regione Basilicata, indicano che da laboratori presso strutture ospedali repubbliche e convenzionate della Regione è stato processato un numero di 1.384 tamponi molecolari per un totale complessivo di 171.194 tamponi effettuati dall'inizio dell'epidemia. Le positività totali riscontrate sono state 172 e di queste 168 in residenti. Le rimanenti positività riguardano un cittadino di stato estero domiciliato in Basilicata e tre soggetti residenti in altre regioni e lì isolamento, i cui esiti non rientrano nel computo dei positivi della Regione. Sul totale dei positivi nella giornata presi in esame risultano in prevalenza i soggetti di sesso femminile rispetto a quelli di sesso maschile, con un'età media di 51 anni per i maschi e di 58 anni per i soggetti di sesso femminile. Tra i casi positivi odierni, al 9% la percentuale tra i casi positivi nella fascia d'età 0-20 anni, sempre più rappresentata, al 52%, la fascia d'età tra i 21 e 64 anni, al 39% l'interessamento degli ultra 65 anni. A prescindere dal numero complessivo giornaliero dei tamponi eseguiti, alcuni parametri per descrivere la situazione. La percentuale di incremento dei nuovi casi negli ultimi sette giorni nella Regione Basilicata è del 5,3%, percentuale di casi inferiori al dato nazionale che è del 6,2%. La proporzione test positivi sul numero totale dei test effettuati, che testimonia la circolazione del virus sul territorio regionale, sale al 12%, in dato odierna. L'incidenza, cioè le nuove positività di Covid-19 per 100.000 abitanti, riferita al periodo primo 15 dicembre, è di 223 casi positivi a fronte di una media nazionale di 410 su 100.000. E infine l'indice di contagio RT, riferito agli ultimi 14 giorni, già dello 0,66%, sarà oggetto di valutazione da parte degli esperti dell'Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute per la settimana 7-13 dicembre e sarà diffuso venerdì prossimo, ma in linea di massimo e in linea col precedente valore. Per quanto riguarda i casi positivi per Covid-19 nella regione Basilicata, 122 sono attribuiti alla provincia di Potenza e di questi 60 interessano il capoluogo. I rimanenti 62 sono distribuiti in 37 comuni della provincia. 47 positività sono attribuite alla provincia di Matera e di queste 8 interessano la città di Matera, mentre i rimanenti 39 sono distribuite in 15 comuni della provincia. Gli incrementi numerici dei casi di positività sono dovuti sempre alla presenza di più focolai sul territorio, segno del predominante coinvolgimento della popolazione generale. Il totale dei ricoverati presso le strutture ospedaliere Lucane Covid dedicate è di 106 pazienti, mentre il numero dei ricoverati nei reparti terapia intensiva è in riduzione, rispettivamente 5 pazienti a Potenza e 5 a Matera. I guariti della giornata sono 128, per un totale complessivo di 3.455 sul territorio regionale. I positivi totali residenti sono 5.891, mentre quelli in isolamento domiciliare sono 5.785. Sono stati registrati 5 decessi correlati al Covid-19 in soggetti con un'età media di 82 anni. Uno di questi è riferito ad un cittadino residente in Campania ma domiciliato in Basilicata. Il totale dei deceduti residenti sale a 213 soggetti. In conclusione, nonostante alcuni indicatori già illustrati diano risultati incoraggianti, la situazione mostra attenzione. Si osserva ancora un elevato numero di positività con una lieve diminuzione delle ospedalizzazioni in area medica e in terapia intensiva e quindi un forte impatto sui servizi ospedalieri. Perciò bisogna evitare di abbassare la guardia e mantenere le misure prese e il livello di attenzione della popolazione per evitare conseguenze molto gravi per la regione. Perciò ciascuno di noi nella vita privata e nell'ambito lavorativo deve continuare a rispettare le norme di massima precauzione per cercare di arginare la tendenza all'aumento incontrollato dei casi positivi. Ringraziandovi per l'attenzione vi saluto e vi do appuntamento al prossimo intervento.